Sono due l'indagati per il pestaggio della notte di Halloween perpetrato ai danni di un quarantenne di Sulmona, la Procura della Repubblica, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo di inchiesta proceduto all'iscrizione di due giovani del posto in base alle sommarie informazioni e alla denuncia della vittima. Tuttavia, sulla dinamica dell'aggressione, avvenuta intorno alle 4 del mattino del primo novembre scorso, ci sarebbero diversi elementi da chiarire. Dal racconto l'eso della vittima è venuto fuori che quarantenne dopo aver fatto serato e lo locale della zona e aver avuto i primi batti becchi sarebbe stato picchiato brutalmente nella veletta di Porta Napoli con un oggetto condundente che non è riuscito a descrivere. A seguito del pestaggio il giovane avrebbe tentato di lasciare il luogo arrivando fino all'arco di Porta Napoli dove ha chiamato aiuto, contattando il numero di emergenza del 118 e sarò quindi trasportato in ospedale dove i medici hanno refertato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e hanno applicato 30 punti di sutura visti i tagli riportati sul viso e sulla tempia, non uno scherzo insomma. Diverso il racconto di quanti erano sul luogo compreso i due giovani finiti sotto inchiesta secondo i quali quarantenne avrebbe insultato gli avventori del locale e una volta allontanato dall'attività avrebbe sradicato un grosso tronco dalla viletta di Porta Napoli fino a creare tensione e scompiglio, una condotta che avrebbe scaldato gli animi e portato all'aggressione, per questo non si escludono querele di parte. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza installato nel locale per i controlli incrociati del caso.